La costruzione di questa chiesa ha dato un valore enorme a un nuovo quartiere, perché nella città di Bolzano è stato progettato un nuovo quartiere e qui i progettanti hanno previsto anche la costruzione di una chiesa. E questa chiesa è nata quasi insieme con tutti gli altri edifici per la gente del posto e così è nata e è cresciuta anche una comunità e la chiesa favorisce tutto questo. Io posso solo parlare positivamente del ruolo della comitenza che mi ha sostenuto per tutto il periodo della progettazione, ma anche nel periodo dell'esecuzione dell'opera. Sono stati sempre molto vicini, hanno contribuito molto nelle scelte, nelle varie scelte da fare e così ne è venuta fuori un'opera eccezionale. Grazie mille.